Noi abbiamo una grande forza, che è la nostra libertà. Nel senso che noi non siamo costretti, per interesse o per ragionamento, a dire sì a tutti i costi, come qualcuno, o no a tutti i costi. Noi valutiamo quali sono le proposte, nel senso che se oggi mi si fosse detto, guardi senatore Salvini, però, i cantieri fermi rimangono fermi. Saremo costretti ad aumentare l'Imu, ad aumentare l'Iva, ad aumentare l'Irpef, perché ce lo chiede l'Europa. Sull'immigrazione non potremo controllare alcunché e di riaperture del Paese. Ne riparliamo fra sei mesi. Avremmo salutato e ringraziato con estremo garbo e estrema educazione, ma saremo qua a raccontarvi un'altra cosa. Abbiamo sentito l'inizio di un percorso interessante per il Paese e dobbiamo tornare settimana prossima. E quindi, se oggi mi chiedete, ma quindi è sì, è no, è forse. Siamo all'inizio di un percorso, per serietà, settimana prossima ci siamo impegnati a entrare nel merito. E quindi, settimana prossima, vi potremo dire sì o no. Non commento i sì o i no degli altri, li rispetto. Li rispetto, non so chi ci guadagna, non so chi ci perde. So che in questi giorni le persone che mi chiamano, mi chiamano dicendo, anche del mio partito, non fare l'interesse della Lega, fare l'interesse del Paese. Questo è, ovviamente, non abbiamo parlato di ministri, di governi tecnici, di governi politici, di formule miste, di sottosegretari. Lascio che altri si esercitino col toto ministri. Semplicemente, io ho detto per chiarezza che la Lega non sarà per il forse. Cioè, se saremo convinti del progetto e dell'idea d'Italia, sarà un sì convinto che ci vedrà partecipi, non alla finestra. Se non ci saranno le condizioni, perché, ripeto, si parlerà, perché magari qualche altro partito avrà questa priorità di aumento delle tasse, di blocco dei cantieri, di mancata riapertura dei negozi e delle scuole, allora il nostro sarà un giudizio diverso. Però io penso che stiamo dimostrando lealtà e serietà. E poi, per quello che si riguarda, il bene del Paese viene prima di interessi di partito o di coalizione. Grazie.